Nuova settimana, nuova immancabile classifica Su consiglio sempre vostro a te che inizio questa classifica incoraggiandovi a lasciare nei commenti la vostra proposta per le prossime settimane C'è qualche top che vi prego, anche qualche flopola di peggiori giochi suggerite io, mi occuperò della stesura detto ciò, oggi parliamo di vampiri tema particolarmente stuzzicante che mi ha permesso anche di ritornare a pensare a delle produzioni a cui non pensavo da una vita e sono certo che in questa lista troverete delle cose che vi andrà di provare che poi fondamentalmente è il motivo per cui facciamo ste top farvi scoprire anche giochi che solitamente magari non giochereste o che non avete mai detto di nominare insomma, andiamo partendo da un grande classico Vampir targato Don't Knob cioè, gli autori di Life is Strange hanno fatto anche Vampir gioco completamente diverso da quello a cui sono soliti lavorare e che racconta il mondo dei vampiri dalla prospettiva di un protagonista meraviglioso che nel corso della sua avventura si trova a dover fare numerose scelte difficilissime tra il cedere alla sete e il resistere con tutte le conseguenze che poi ne derivano gioco che pone la componente rolistica al centro dell'esperienza e che proprio per questo mi ha fatto innamorare fermo restando che anche la componente action è ben riuscita poi Vampire the Masquerade e qui bisogna dire il brand tutto aspettando un Bloodlines 2 che chissà quando arriverà vi potete giocare Bloodlines il primo che seppur vecchio è sempre un grandissimo prodotto il più recente Swan Song che come avrete sicuramente visto sul canale ha un key di molto intrigante e anche il sempre trascuratissimo Cateries of New York che è un'avventura testuale dalla fortissima componente rolistica un po' un libro game a sfondo vampirico ma che veramente funziona e vi racconterà qualche sfumatore in più di un brand ripeto, molto sottovalutato rispetto al suo reale potenziale che tutti quelli che hanno provato ben conoscono poi il grande classico Castlevania Lords of Shadow allora anche qui sarebbe a dire tutti i Castlevania però Lords of Shadow targato Konami peraltro negli ultimi nell'ultimo periodo in cui Konami ancora regalava qualcosa di valido è un titolo che ai tempi fu un po' criticato forse un po' ingiustamente ma che in realtà aveva un potenziale veramente notevole sia sotto il profilo ludico che sotto il profilo artistico gioco che io ho apprezzato tantissimo e che ancora oggi ricordo con piacere e che potrebbe accompagnarvi magari chissà durante la visione del meraviglioso anime di cui abbiamo parlato anche in passato andando avanti Immortal Realms Vampire Wars titolo che mischia strategia a turni con la componente rolistica in un universo in cui si contendono il potere diverse fazioni dalle caratteristiche potenzialità e unità molto diverse gioco che vi ho portato in passato peraltro una delle poche sponsor che ho fatto qua sul canale e che ricordo con piacere perché era effettivamente un gran bel prodotto per cui diciamo che se volete vivere il mondo vampirico potrebbe essere una bella idea poi The Incredible Adventures of Van Helsing un Diablo-like di fatto di cui anche qui si è parlato molto poco ma che a conti fatti offreva un'avventura molto molto affascinante ben strutturata con una bella progressione e che diciamo che agli appassionati del genere della categoria e del brand di Van Helsing riusciva veramente a garantire diversi ore di divertimento gioco di cui ripeto non so perché si sia parlato così poco all'epoca ma concretamente era molto più valido di quanto molti non l'abbiano fatto apparire ed è quasi paradossale ma con i Diablo-like siamo sempre un po' lì poi ragazzi Survivor allora qui parliamo del secondo capitolo della serie di Legacy of Cain ma è quello che più di ogni altro ci è rimasto nel cuore adesso non so se l'ha messo in line di questo video avremmo avuto il grande annuncio della presenza del gioco nel nuovo Playstation Plus non lo so resta comunque il fatto che se si parla di vampiri non si può non pensare a Soul Reaver vuoi per la componente artistica vuoi per la componente ludica non c'era niente che non andasse in quel gioco l'unica cosa che non va è che non ce l'hanno mai riproposto quello è il suo vero grande difetto ma chissà che prima o poi le cose non vengano in qualche modo colmate poi Infamous Festival of Blood l'espansione stand alone di Infamous 2 basata interamente sui vampiri anche qui come abbiamo detto in più occasioni ultimamente parlando di espansioni parliamo di un'espansione che andava a rileggere completamente un certo tipo di idea e non aveva niente a che fare con la componente canonica dell'avventura ma un'espansione stand alone veramente divertente che sfruttando il potenziale i punti di forza dell'avventura di base riusciva a riproporre un'avventura veramente fighissima e non ci sono altri termini per definirla un'avventura che non ho mai realmente lasciato andare perché ancora oggi quando ci ripenso ripercorro alcuni dei momenti più divertenti che abbia passato in compagnia di Infamous come brand e cavolo quanto mi manca Infamous poi Skyrim se si parla di vampiri non si può ignorare che in Skyrim questo argomento ricopre un ruolo di grande importanza qualora lo vogliate perché come impone la tradizione di Skyrim in Skyrim sei libero di fare e essere quel che vuoi compresa la componente vampirica che ricopre un ruolo importante adesso io non voglio approfondire perché magari c'è qualcuno che ancora non l'ha giocato qualcuno magari esiste ma resta il fatto che se amate il genere vampirico cercate un prodotto che vi soddisfi in tal senso date un occhio pure a Skyrim potrebbe sorprendervi poi gli ultimi due Code Vein allora qui si parla di re di vivi ma sono un po' dei simil vampiri quindi se cercate un titolo che vi possa proporre il tema vampirico o vampiresco in chiave un po' anime con riletture fantasiose del tema originale Code Vein compice la sua interessantissima componente action potrebbe veramente soddisfarvi quindi è un titolo che io terrei d'occhio fossi al posto non parliamo di un capolavoro ce ne sono pochi di capolavori in mezzo forse è giusto Skyrim e pochi altri ma è comunque un titolo da non sottolineare se si cerca qualcosa che abbia a che fare con il tema dei vampiri e chiudiamo con The Witcher 3 Blood and Wine altra espansione meravigliosa che ha contribuito in maniera straordinaria a diffondere il mito di The Witcher come brand e il mito di The Witcher 3 come singolo capitolo questa espansione è quasi più bella dell'avventura di Basil che è tutto dire e ha come tema appunto proprio i vampiri sangue e vino Blood and Wine proprio è nel titolo quello che vi aspetta e vi posso garantire che per struttura componente artistica componente ludica vi trascinerà letteralmente in una sequela di situazioni che vi resteranno nel cuore per anni forse fra tutte le produzioni a sfondo vampirico e vampiresco quella di Blood and Wine è la una delle più riuscite per cui fatemi sapere cosa ne pensate dei 10 giochi che vi ho proposto vi ricordo che queste sono top ma che non vogliono essere in ordine numerico sono 10 titoli che vi suggerisco di recuperare ma poi l'ordine dipende dai gusti di ciascuno di noi non riesco a fare classifiche da 1 a 10 in questi casi quindi fatemi sapere cosa ne pensate dei 10 giochi che vi ho proposto io e quali proporreste voi ce ne sono parecchi a tema di vampiri ma appunto secondo me i migliori prodotti che raccontano questa tematica sono questi ma aspetto le vostre proposte e aspetto ovviamente anche le vostre proposte in quanto a temi di top o flop da portare grazie a tutti Grazie a tutti.